38. L'universo ci attende. Domanda. È possibile, pur vivendo sulla Terra, aver raggiunto una consapevolezza tale da vivere, sì materialmente, ma già in collegamento con l'altra dimensione? Tutto è dall'illusione alla realtà spirituale, attraverso Mario del Giglio, guida. «Mio caro fratello, ma chi di voi è in grado di dire che non ha più interesse alla materia? Possiamo dire che ci sono fratelli che hanno questa capacità, ma, credimi, sono pochi. Nel vedervi spiritualmente, non pecco di superbia, ma è una constatazione, siete sì illuminati, ma non tanto da non dover tornare a vivere sulla Terra. Però, se vi dicessi che voi vivrete esperienze diverse e vi rincontrerete con i vostri cari che vi hanno lasciato e che non aspettano altro che di rivivere con ruoli diversi l'esperienza insieme a voi, non vi rende in questo momento felici e sereni? E allora, fratelli, accettate almeno di vivere sereni. Quello che ho detto non è cosa da poco, è la verità. Quando avrete superato insieme varie esperienze e sarete in grado di comprendere tutti insieme la famiglia spirituale, state certi che, pur rimanendo individui separati gli uni dagli altri, potremo e potrete vivere felici in altre dimensioni di esistenza. E' stato detto, l'universo ci attende.